buonasera allora aggiornamento video ho un po di occhiaie adesso sono scoppiata ma ce la posso farci allora oggi è andata abbastanza discretamente sono arrivati i risultati della delle lettere encefalogramma e sembra che non ci sia nulla di rilevante che già è buon segno inoltre mio marito era sveglio e non parla ancora ma ancora tutta la tubatura in bocca in gola quindi comunque non potrebbe parlare neanche volendo la mano e la gamba destra li muoveva già prima e quindi continua a muoverli tranquillamente per quanto riguarda invece la mano sinistra e la gamba sinistra la gamba sta cominciando un po a muoverla la mano proprio poco però un minimo di accenno c'è appena appena tirarla su riesce quindi comunque va sempre calcolato come un miglioramento c'ho polistirolo da tutte le parti ho aperto una scatola prima per vedere una cosa e sono invasa di polistirolo quindi l'unico aggiornamento ad oggi è quello lì per ora hanno staccato già da ieri l'avevo detto l'ossigeno e sta respirando da solo e oggi appunto riusciva un pochino a muovere anche la gamba sinistra e la mano sinistra certo non come la destra che invece la muoveva già bene la prima ma giusto un po ha cominciato quindi nell'insieme pare essere un miglioramento appunto nelle tre encefalogramma non c'era non c'erano cose di rilevanza cose importanti di rilevanza e tutto fa sperare fa pensare che comunque nonostante la batosta non si sia proprio andato a fondere la situazione altri aggiornamenti non ce n'è rimarrà comunque per il momento in rianimazione ovviamente ancora tutto da vedere stanno bilanciando farmaci e medicinali per capire da che organo sia partito il tutto anche perché altrimenti non si può evitare eventualmente che riaccada di conseguenza bisogna arrivare al fulcro della situazione quindi in rianimazione ci sarà ancora un bel po di tempo e piccoli passi come quello di oggi come quello di ieri piccoli avanzamenti sperando che tutto vada sempre bene che tutto fili sempre liscio e poi ci sarà in seguito quando riusciranno a identificare uno straccio di causa o possibilitale anche il ricovero poi in reparto normale e da lì si inizieranno suppongo le terapie eventuali riabilitazioni e tutto il resto il problema di base quello che resta alla base del tutto oltre ai possibili miglioramenti peggioramenti o staticità per ora della situazione generale psicofisica è proprio quello di riuscire ad arrivare a capire qual è stata cosa è stata la causa scatenante principale ma diciamo che nell'insieme anche se piccolissimi impercettibili passi avanti sembra che comunque tutto stia andando un po a migliorare per ora come aggiornamento c'è solo questo ovviamente siamo andati stamattina apposta per poter parlare anche con il dottore che l'ha seguito maggiormente in questi giorni e appunto abbiamo notato anche noi questo piccolo miglioramento della situazione globale inoltre ieri crollava di continuo e si addormentava di continuo mentre invece oggi almeno per tutto il tempo che siamo stati lì in visita un'ora e mezza circa è rimasto sveglio quindi aveva gli occhi aperti ovviamente appunto non parlava non è che è ancora tutto imbardato c'è ancora i polsi legati e tutte le flevo attaccate il tubo ce l'ha staccato dall'ossigeno ma ancora inserito perché non si sa mai avendo avuto la crisi respiratoria almeno ancora per oggi e domani glielo tenevano poi vedevano come andava la situazione della respirazione autonoma e in base a quello decidevano piccoli piccoli passi che però sembrano portare a un meglio e non a un peggio andiamo avanti e vediamo di volta in volta anche perché adesso è sotto altri esami stanno valutando anche altre possibilità e continuano comunque a cercare in primis le cause del tutto che ancora non sono assolutamente chiare sotto nessun punto di vista e poi in secondo piano anche il fatto che devono deve essere trovata la causa scatenante altrimenti non si potrà evitare che possa riaccadere un qualcosa se non si trova dove andare a curare inoltre non può essere spostato in reparto finché non sia un quadro generale della situazione non sia un'eventuale terapia anche da da mettere in pratica o comunque un modus di di risistemazione di quello che si era andato a rompere io sempre tardissimo anche stasera almeno per me sono le 10 20 ma sono sempre di corsa si vede sembra un panda sempre di corsa sembra fare decimila cose sempre sempre a prescindere sempre tutto sempre vi tengo aggiornati come al solito per tutti quelli che continuano a chiedermi anzi tanti hanno gradito in qualche modo questo mio spiegare tramite i video per tenervi informati e ne sono contenta anche perché sono tutti amici tutte persone che ho intorno che ho vicine che ringrazio ovviamente in ogni singolo video e che in questo modo loro rimangono aggiornati e io non mi sento in deficit per non essere riuscita a rispondere a uno per uno ma oggettivamente ripeto arrivo a mettermi al computer quando riesco alle 10 20 ho anche delle cose da sistemare da organizzare da fare se dovessi rispondere personalmente a ogni singola richiesta ogni singolo commento ogni singolo messaggio eccetera mi ci vorrebbero 36 ore solo per quello e ora come ora non ho nel tempo e soprattutto nella testa per mettermi a rispondere a random invece così faccio il riassuntino situazionale e anche perché c'è anche tanti amici che seguono la situazione c'è persino mia sorella che segue i video mia cugina l'altro mio cugino in questo modo qua riesco ad avvertire un po tutti anche perché io il telefono non sento lo sapete sono sorda e quindi non posso mettermi a fare telefonate e scrivere non è proprio nelle mie corde col telefonino mi impiccio scrivo cose malfatte leggo male non sono una adatta a utilizzare il telefonino al pc riesco a sedarmi la notte la sera tardi e quindi anche lì non ho il tempo e la possibilità di mettermi poi a rispondere a tutti e trovo che questi piccoli video riassuntivi siano la soluzione migliore sia per me egoisticamente parlando in primis ma sia anche per tutti gli amici conoscenti le persone che comunque si sono dimostrate vicine interessate a ciò che accadeva e quant'altro detto questo rinnovo i saluti e ringraziamenti e vi faccio sapere nei prossimi giorni come evolve se evolve se non evolve o come va in generale la situazione grazie sempre a tutti davvero grazie a tutti